L'assessore regionale ai trasporti Ceccarelli è salito oggi sul treno delle 7.48 a Rezzo, Firenze. Una tratta gettonatissima dai pendolari, soprattutto valdarnesi. Alcune le criticità che ha riscontrato l'assessore ai trasporti. Sta meglio il giovane che ieri si è sentito male durante Sansepolcro Montevarchi. Soccorso subito dalle tribune grazie alla presenza del cardiologo Tegli, padre del secondo portiere montevarchino. Donato dal Calcit Valdarno, un nuovo macchinario all'ospedale della Gruccia dal costo di quasi 150.000 euro. È una colonna laparoscopica 3D utile per le operazioni chirurgiche. E il Calcit, grazie al pranzo di solidarietà, Terra Nuova ha incassato 3.060 euro che andranno a finanziare altre tre macchine che saranno donate nelle prossime settimane al presidio valdarnese. Questa domenica, centro di San Giovanni Valdarno, pieno di persone per i 200 anni del concerto comunale. Cinque bande si sono succedute per le vie per celebrare due secoli di un'associazione fra le più antiche della Toscana. E dalla regione il Consiglio renderà giornata di lutto per l'intera Toscana. Il giorno del 10 aprile, data del disastro del traghetto Moby Prince, la proposta direttamente del Presidente del Consiglio, Gianni. Calcio e Viola non vanno oltre lo 0-0 contro la Spal, ma il Milan è ancora a due punti. E quindi anche l'Europa, soddisfazione da parte di Pioli, questo è l'ottavo risultato utile consecutivo. In Serie D la San Giovannese sfiora la vittoria contro il tutto cuoio, ma si ferma sull'1-1. E comunque piena zona play-off, il Montevarchi strappa una vittoria contro il Sansepolcro che mancava fuori casa da sei mesi.